E per la categoria news, pensavate fosse ridicolo cecchipaone, pensavate fosse ambigua la gruver, ebbene lo era, ma c'è chi lo è molto di più, gli inviados speciali. Ciao Volpino! Ciao Volpino! Volpino ciao! E' andato a sbattere! Ha avuto un incidente il Volpino! Ma guarda che te dovevi stare attento! Che fregatura! Con chi esco domani? Vabbè dai! Allora ragazzi, ragazzi, ci felicità i pollotti amanti della natura, amanti di qualsiasi cosa, buonasera! Da TG Inviado Special, da Marilyn e Evelyn! Ma scusa un attimo, ma cos'è che abbiamo vinto? Voi, te le batto! Te la, te la meno! Non mi ricordo, te la prendo! Non mi ricordo più! Ma guarda, veramente, dunque, ma poi scusa mi sembri patta, ma cosa stai dicendo? Ma tu, tu mi sembri fuori, mi sembri allucinata! E guarda che te le gatto! Ehi, una stertuetta durata! Eh, scusa, cosa guardi? Poi guarda, quando fai quella faccia lì mi sembri Maria Giovanna Maglie! Poi per quanto riguarda il corpo, vabbè dai, lasciami stare, va? Ma stanzita te, Befana! Sì, è arrivata lei! Eh, lasciami stare, partiamo con la prima videopornonotizia! Sì, dov'è? Da qua non la trovo! Eccola! È fresca, fresca! Eh, ma tu non vuoi capire che questa è zona privata! Maria, fatti lunghi e ben distesi! Sciolare! Che ci distrai anche tutti i clienti che abbiamo, ma comunque andiamo avanti con la prima videopornonotizia! Vai col filmato! Ah no, aspetta, il titolo di questa video... Oh, scusa, scusa, no, sto interrotto, scusa! Allora, il primo, il titolo di questa videopornonotizia è Con Scalfaro, presidente, una camera è sufficiente! Vai! Vai, vai col filmato! Vai! Giungi! Ecco il presidente Oscar Luigi Scalfaro che si congratula con i neoeletti del Parlamento della Seconda Repubblica! Buongiorno! Buongiorno! Ma sentite cosa augura loro! Auguri a tutti e buon appetito! Buon appetito! Eh, Scalfaro ha già capito che cambia il governo, ma non la vecchia tradizione culinaria! No, è mio! 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 Lo voglio io! Ma se è chiencelo! Ma guarda... Non mi interessa niente! Ma l'educata se... Quando ho provato te poi tu ti torna da me! No, è arrivata... Oh! È arrivato Pier Maria! Pier Maria! Stiamo arrivando! Arriviamo! Che tardi Pier Maria! Arriviamo! Ciao Pier Maria! Arriviamo!